Buon pomeriggio e buona domenica a voi. Allora oggi avrei voluto fare solo il video in serata che stavo per preparare, ma poi leggendo alcuni vostri commenti riguardante una certa notizia ho ritenuto che fosse necessario invece fare un video a riguardo. Però prima una premessa. Chi mi conosce credo che abbia ormai imparato a distinguere il fatto che io non sono qui per orare una certa causa e cioè quella dei vaccini che sarebbero assolutamente dannosi per la salute. Parliamo chiaramente dei vaccini Covid-19. Io ho un'impostazione totalmente diversa. Quello che a me non piace e non è mai piaciuto in questi quattro anni che non ci sia stato un confronto rispetto a coloro che la pensavano in maniera diversa appunto sui vaccini che si sia voluto imporre solamente un certo tipo di impostazione, un certo tipo di strada, si sia rifiutato di confrontarsi con chi la pensava in maniera diversa. Ecco, è questa la cosa che non mi è mai piaciuta e soprattutto ho cercato di evidenziare anche rispetto a quelle che erano le posizioni di scienziati attendibili e quindi i grandi dubbi che sono sorti intorno anche e soprattutto intorno al vaccino Covid-19. Però non sono certamente qui per darvi delle fake news o per cercare di portare, come si suol dire in questo caso, l'acqua al mio murino dando delle notizie che vanno a confortare quella che è la nostra posizione di persone scettiche sul vaccino Covid-19. E quindi veniamo al tema. Io qualche giorno fa vi ho dato una notizia a riguardo del governo islandese che avrebbe richirato o bloccato, se meglio preferite, il vaccino Covid-19 in quanto in Islanda ci sarebbero molte morti sospette, le morti per cause così da accertare sarebbero in aumento e questo avrebbe consigliato il governo islandese a fermare per il momento la somministrazione del vaccino Covid-19. Ora, intorno a questa notizia è nata una polemica, perché molti la ritengono una fake news. Io oggi voglio riportarvi la posizione di Open, sicuramente su questo non ci sono dubbi, un organo di informazione assolutamente attendibile e voglio un attimino leggervi cosa dice Open, che considera, e questa è la premessa, questa è una notizia non veritiera, però andiamo a vedere come descrive quello che è successo. Ve lo leggo brevemente. Allora, all'inizio di ottobre si è tenuta a Reykjavik, che è la capitale dell'Islanda, una conferenza dal titolo Let the Science Speak, lasciate parlare la scienza. I relatori della conferenza hanno parlato dei danni causati dall'iniezione di Covid-19 e della presa di potere da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS. Su questo ha parlato Sasha Letipotova, che è stata una dei relatori di questo evento, era tra i relatori. Sei settimane dopo, gli organizzatori della conferenza hanno informato la Letipova che il governo islandese aveva annunciato che a partire dalla prossima settimana le iniezioni di Covid-19 non sarebbero più state disponibili in Islanda. Ieri la Letipova è stata informata dagli organizzatori della conferenza in Islanda che un annuncio è apparso su un quotidiano islandese, Morgun Bladid, il 17 novembre. L'articolo termina. La prossima settimana il pubblico potrà vaccinarsi presso il centro sanitario contro l'influenza, ma per il momento non sarà possibile vaccinarsi contro il Covid. Tutto questo diventa che l'Islanda vieta la vaccinazione Covid. L'Islanda vieta i vaccini Covid in mezzo all'impennata delle morti improvvise, nei post citati. Il problema è che queste sono dietrologie, prive di una conferma delle fonti ufficiali, dei post di News Addict si linka solo i quotidiani islandesi, Morgun Bladid, e non direttamente l'articolo in cui sarebbe stato riportato tale divieto governativo. Insomma, probabilmente non ci avrete capito molto, ve lo riassumo un po' è un pasticcio. È nato un pasticcio tra le dichiarazioni di una delle relatrici, Sasha Lapitova, e quello che realmente è la posizione del governo che non corrisponde al fatto appunto che il governo ha deciso di ritirare il vaccino Covid-19 a causa appunto delle morti improvvise, delle morti legate alla vaccinazione. Quindi questo era giusto che io ve lo dicessi. Quindi, ripeto, non c'è il ritiro, perché questo bisogna ammetterlo a questo punto, non c'è stato un ritiro ufficiale da parte del governo islandese o una fermata, se così meglio preferite, del vaccino Covid-19, ma semplicemente intorno all'intervento di Lapitova, così un malinteso probabilmente, non so neanche io come riportarlo, perché, ripeto, ci sono anche giornali islandesi che avevano dato questo tipo di notizia. Questo ve lo dovevo, perché, ripeto, io non voglio assolutamente che passino messaggi che non sono al 100% veritieri, come in questo caso non lo è. Ripeto, il governo islandese non ha preso questa decisione. Non voglio assolutamente che passi il messaggio che qui, in questo canale, si cerca in qualche modo di portare l'acqua al proprio molino che sarebbe quello di dire che i vaccini, in particolare quelli Covid-19, fanno male, sono vaccini che hanno causato solo morti. Non è vero. Noi qui diciamo un'altra cosa. Non accettiamo che non ci sia un confronto scientifico allargato tra coloro che sono scettici per mille ragioni e ragioni assolutamente che stanno in piedi. Ce l'ha detto più volte il compianto Luc Montagnier, ce l'hanno detto tantissimi altri scienziati e coloro che invece mettono la mano sul fuoco che non ci sono controindicazioni, che il vaccino va benissimo, che ottiene grandi risultati. Ecco, su questo canale io non accetto che ci sia questa posizione, perché il mondo scientifico deve confrontarsi e soprattutto la cosa peggiore dall'altra parte sì che si cerca di negare talvolta delle informazioni che andrebbero date per quanto riguarda i dati statistici sull'argomento. Con questo spero di essere stato chiaro. Io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.